Il giorno e la storia. Oggi è il 13 febbraio. 1945, il bombardamento di Dresda. 1883, muore Richard Wagner. 1975, nasce il nuovo stato turco-cipriota. Commenta il fatto del giorno Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e Trentino. Oggi parlo di un grande scrittore, George Simononi. Oggi parlo di un grande scrittore, George Simononi.